Grazie a tutti. Grazie per aver capito la nostra serietà, grazie per aver capito che abbiamo un programma, grazie per aver capito che noi dobbiamo rimettere Teramo al centro dell'Abruzzo, dobbiamo dare a Teramo quello che si aspetta da tanti anni, quello che altri che ci hanno preceduto in questa legislatura che ormai è già scaduta non sono riusciti a fare. Grazie, lo avete capito, a Teramo noi abbiamo preso il 52% dei consensi nonostante la passerella di uomini di governo che sono venuti qui a sostenere quella che appariva a tutti quanti, una traballante maggioranza. Io ho rispetto per gli uomini di governo, io li ho salutati nel mio cuore quando si sono affacciati qui a Teramo e nell'intero Abruzzo. Ho ritenuto che il mio saluto, il saluto dell'uomo delle istituzioni, dovesse andare anche agli uomini di governo ma voi siete stati più bravi di me perché avete capito che costoro non venivano a rappresentare istituzioni ma venivano a fare una campagna elettorale che non dovevano e non potevano fare. Sono venuti qua non per rappresentare quelle istituzioni, cosa che io voglio, vorrei, vorrò che continui a fare. E uno dei nostri primi atti, Rocco, che faremo in Regione Abruzzo, uno dei nostri primi atti sarà quello di invitare il capo del governo dell'Italia, qualunque esso sarà amato di un altro per dire che il nostro desiderio è di lavorare assieme tutti quanti ma non facendo campagna elettorale, non faremo mai di liberare 50 miliardi da nessuna amministrazione dell'Abruzzo per sostenere passaggi di campagna elettorale. Ciao a tutti i governi, questo è il più certissimo che vi salitare perché lo avete capito, grazie, grazie amici che erano. Un saluto di Dio. Senza del pane non sarei andato da nessuna base. Ma non stanno scherzando. Ecco qui. Ecco qui. Cercato, ciao. Tutto a posto quelle? Tutto a tanti a? Ah, ti è arrivato in più? Io te la lascio a tutti i segreti nel telefono. Quanto immediatamente? Quanto l'azienda? No, è già andrà. Non ho dovuto superare te. Mi pare la cosa. Che sei in realtà? Tutto a testa. Meno male. Grazie. Non mi raccomando. Mi senti, non ricordo. Grazie. Abbiamo sofferto. Scusa, devo dirti una cosa. Buonasera. Io vi ho fatto assistere, ho fiduciato. Senza di me ho pagato il gioco. Hai fatto soffrire. Ti ho finito la prima volta. Vabbè, quello qui. Questa sera. Se ne va a dire, sta nottata in piedi. Ah, benissimo. Sì, sì. Ciao. Ciao. Come stai? Ciao. 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 Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi una cosa, quando sono venuto qui a Teramo alla prima volta, che cosa ho detto? Che il 16 di aprile il presidente della regione si è stato io. Ed eccomi qua. Grazie a voi. 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 un abbraccio molto io vorrei andare a salutare quelli da Sturio è vero un abbraccio molto 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 un abbraccio molto